Confronto, sperimentare, coinvolgenti, riscoperta, focalizzante, radioso, stato di eccitazione, Il carburante giusto, entusiasmo, ottima visione d'insieme, meraviglia, stratosferici, vibrante, impegnativo, movimento, ne parliamo lunedì, bellissima opportunità, accendere la lampadina, onde gravitazionali, entusiasmo, una bella rimpatriata, faticoso, incontri originali, network, interazione, produttivo, contemporaneità, energia, tante domande, ricco ed intenso, innovativo. Entusiasmo e futuro, da noi ai giovani, entusiasmo e passione per il nostro lavoro, grande organizzazione, ce l'abbiamo!